Ciao a tutti, mi trovo qui allo skateboard di Ostia, si chiama The Spot, in zona vicino al porto, a 100 metri dalla spiaggia. Sono qui per la World Cup of Skateboarding, ormai è un appuntamento fisso che più o meno da quattro anni a questa parte c'è tutte le stati e noi molto volentieri veniamo a far festa a vedere dello skate ad alto livello. Hey, what's going on? My name is Dave Duncan with World Cup Skateboarding and we are traveling the world every year to bring the love of skateboarding, the spirit of skateboarding across the world. Come ogni anno, ci sono un sacco di skater da tutto il mondo, principalmente brasiliani, devo dire che i brasiliani si sono veramente trovati bene dal primo anno che vengono. Iniziano in 4-5, poi ogni volta lo dicono ai loro amici e ogni anno c'è sempre più gente, sempre più forte. Questo anno siamo in Europa per un anno, l'ultima settimana siamo in Marseille, Francia, e qui è l'inizio di Julio. In Ostia, che è proprio a Roma, l'Italia, qui è proprio a una bella skate parka called The Spot. Questo luogo è incredibile. Mark e Willie, i ragazzi locali, hanno costruito questo luogo davvero bello per la skate parka, hanno un'ottima balla qui, hanno anche questi luoghi di basketball per le cose di basketball, c'è molto di graffitti, questo è davvero il livello di cui stiamo parlando, musica e skateboarding. Quindi, diciamo, i presupposti per lo spettacolo ci sono tutti. Quest'anno penso sia il clima quasi giusto, fa caldo ma non troppo, quindi sarà una tre giorni bellissima, dovuta anche al fatto che per il primo anno l'Alpipe, cioè la rampa verticale, anziché essere qui di fuori di strada, fuori dello skate park, dove, sai, il pubblico non veniva molto volentieri, questa volta al molo e metto, diciamo, alla movida osviense del sabato sera, penso che ci sarà un botto di gente. Quindi, tutti invitati qui, se non ci venite quest'anno, ci venite l'anno prossimo, perché è veramente una figata. Ci vediamo! Quindi, questa settimana prendiamo insieme tutti gli skateboarders di tutto il mondo, abbiamo molti brasiliani qui, molti europei qui, gli americani qui, e ci stiamo facendo un buon tempo skateboarding, questo è il nostro quarto anno qui, l'ultimo anno era chiamato il spot Inferno, perché l'anno è stato molto caldo, in la giornata è molto caldo. Quindi, molto ciò che succede in l'anno, in l'anno e l'anno, in l'anno e l'anno. Questo anno è chiamato il paradise! Welcome to paradise! Quindi, l'anno qui è l'anno qui. L'anno, l'anno mettere in un buon koozie per mantenere l'anno. Allo gli skateri e tutti i nostri ammbrano venire a Ostia, a giocare la stagione del skate, a giocare la partita, a giocare la partita, a giocare la fune, e a giocare l'ambezionale. Quindi, grazie per aver guardato. E, sì! E, sì! E, sì! E, sì! E, sì! E, sì! 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 E, sì! E, sì! Se quasi! E'... D'acquato i mu surge ha pricte! Grazie a tutti